Pomeriggio ragazzi, ci siamo, Social Academy, siamo qua con un gruppo pazzesco di ragazzi olandesi hanno fatto una cosa assurda, sono partiti quattro giorni prima e hanno corso dall'Olanda fino a Colonia praticamente facendo un giorno mezza maratona, l'altro giorno una maratona Adesso ve lo dice lui dalla sua voce in English e poi io lo traduco Voi, il tuo nome? Ariane Ariane, ok, quanti anni in Herbalife? Abbiamo 6 anni in Herbalife Ok, great, ok, diciamo la tua storia, la tua storia Io non ho mai avuto un bacino prima, prima di Herbalife e ho iniziato con Herbalife prodotti e la bacino e mi sento incredibile, il mio lavoro è molto meglio e più e ho avuto 2-3 ore più al giorno, al fine del giorno Ok, quanto riguarda la tua forza? La forza? Olanda, da Colonia Abbiamo fatto la forza in Utrecht, in Holland e abbiamo fatto un gruppo di 8 persone a Colonia, a extravaganza Abbiamo fatto 130 km in 4 giorni 2 half maratons, 2 whole maratons e abbiamo fatto un gruppo, il gruppo è tutto qui Yeah, 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 this is a group And the most important thing, we raced with all the Dutch people and the Belgium 32,000 euros for the Herbalife Nutrition Foundation Yeah, great All the children are here Fantastic For a better life, so that's amazing Wow, wow, wow Good, really good Thank you Ragazzi, fantastico, tranquillo, si capisce, ma poi ve lo traduco Siamo veramente una squadra, noi tutti in Herbalife, pazzesca Ci vediamo lunedì Ciao